Il figlio è neguai, da qui la richiesta di denaro in contanti per salvarlo dal carcere. Il copione messo in scena dai truffatori è sempre il solito. Vittima del raggiro, adesso un 83enne residente nel cortonese che a seguito delle richieste insistenti e pressanti è caduta nell'inganno, consegnando ai malviventi quasi 6.000 euro in contanti ed alcuni preziosi in oro. Tutto è iniziato con una chiamata sul telefono di casa dall'altro capo della cornetta. Un uomo che si è qualificato come avvocato dice di essere un amico del figlio, finito nei guai per aver provocato un grave incidente stradale. Da qui la richiesta di denaro. Il pressing psicologico è così già iniziato. A quel punto l'anziana infatti riceve anche un'altra chiamata sul cellulare da un sedicente maresciallo che conferma la versione del legale. La donna così, dopo aver raccolto 2.300 euro, consegna il denaro ad uno sconosciuto che bussa alla sua porta. Troppo poco però, secondo i truffatori, così la signora dopo aver ricevuto un'altra chiamata prepara una seconda busta con altri 3.400 euro e alcuni monili d'oro, ritirata anche in questo caso da un ragazzo apparso alla porta. L'anziana attende così le notizie del figlio ma poco dopo realizza di essere stata ingannata e richiede l'intervento dei carabinieri che adesso stanno indagando sull'accaduto. L'anziana attende così le notizie del figlio ma poco dopo aver ricevuto un'altra chiamata. L'anziana attende così le notizie del figlio ma poco dopo aver ricevuto un'altra chiamata.